Vai! Velo, non ci sente. Giovanni, alzate il microfono, il microfono. Ti leverò la tensione, senza esitazione, senza dirti perché. Dopo poco non si sa che non tu erai, che stava di là. E ora non puoi ti fare, ma c'è più il filo di italiano, che è sempre un dolaro, che ci ammazzerà. Parlare i bambini! Tutto a Luca, ragazzi!